A Palazzo Chigi e per le trattative sul governo si parte dal programma Linea e Metodo dei 5 Stelle. Il leader del movimento pronta un giro di incontri con le altre forze, con i capi gruppi, viene specificato. Mattinata di contatti, nel pomeriggio ci sarà chiarezza sul calendario dei tavoli che si terranno prima delle consultazioni al Quirinale. Porta aperta a tutti, compreso il PD. Una sottolineatura che secondo le ricostruzioni servirebbe più che altro a mantenere il pressing alto sulla Lega con la quale resta la relazione speciale, il filo più robusto di interlocuzione. Negli incontri con le altre forze politiche metteremo al centro, come sempre, i temi che stanno a cuore agli italiani, dalla povertà al taglio delle tasse. Ovviamente siamo anche convinti che le altre forze politiche abbiano delle buone proposte, le aspettiamo e le valutiamo con attenzione. Toninelli parla dal Senato dove stamattina si è svolta la prima capi gruppo. In agenda, oggi pomeriggio, le nomine negli uffici di presidenza. Alle 15 in aula la scelta di vicepresidenti, questori e segretari d'aula.